Il primo movimento europeo. Volt nasce come l'energia di giovani e meno giovani che da tutta Europa si sono messi insieme per creare un'alternativa politica a tutto quello che sta succedendo in Europa e anche in Italia, al nostro governo. Quindi abbiamo creato lo stesso partito in tutti i paesi dell'Unione Europea con la stessa visione, le stesse politiche e gli stessi valori. Ad oggi contiamo più di 20.000 attivisti in tutti i paesi d'Europa e in Italia siamo già a 4.000 tesserati. Il partito italiano è nato solo a luglio. Cosa vogliamo noi di Volt? Tre grandi cose. Uno, riformare l'Unione Europea. Sappiamo che l'Unione Europea ad oggi non funziona e ha causato grandi problemi sociali. Noi vogliamo che l'Unione Europea diventi davvero democratica. Quindi che ci sia un Parlamento che possa proporre leggi che non sia bloccata dai consensi di tutti gli stati. Seconda cosa, noi vogliamo crescita economica e crescita condivisa. Un grosso problema dell'Italia è il fatto che non ci sono posti di lavoro, che i giovani scappano. Più di 300.000 persone ogni anno se ne vanno. Noi vogliamo che si tornino a investire per creare posti di lavoro, per aiutare le imprese a svilupparsi. Per esempio, ad oggi ci sono 60 miliardi di fondi europei non utilizzati e che scadranno l'anno prossimo. Secondo noi questi fondi devono essere sbloccati al più presto. Infine, noi, di Volt, per le prossime elezioni di Parlamento Europee, portiamo avanti anche una proposta sui diritti alla sostenibilità. Diritti come, per esempio, il fatto che le donne devono essere pagate come gli uomini o che ci siano strutture di supporto per famiglie, come gli asili nido, che oggi sono molto carenti. Sostenibilità, in senso che stiamo chiaramente affrontando le difficoltà, cambiamento climatico, inquinamento, ma questo può diventare un'opportunità per noi. Si possono creare posti di lavoro, industrie, portare crescita economica, se investiamo in sostenibilità. Quindi questo è quello che stiamo facendo come Volt. Questo maggio parteciperò a lezioni europee in Italia e in tutta Europa e l'idea è proprio quella di, per la prima volta, essere un partito con le stesse proposte in tutto il continente.